Leggo adesso del Corriere del Nuovo Ministro alla faccia del risparmio. Leggo adesso del Corriere del Nuovo Ministro alla faccia del risparmio. Monti è un pò come il Papa Nuovo, nel senso che si fa fatica un pò a voler bene. Monti un pò come il Papa Nuovo, nel senso che si fa fatica un pò a voler bene. I soldi non vengano fuori dai marciapiedi. I soldi non vengano fuori dai marciapiedi. Troppo terrorismo mediatico. C'è troppo terrorismo mediatico, sì com'è. Tutti hanno rapporti amorosi fra di loro. Tutti hanno rapporti amorosi fra di loro.